Allora, sempre un piacere vederla, ma come mai è arrivato qui oggi e come mai si incontra con il sindaco Romizzi? Beh, mi incontro con Andrea innanzitutto perché è un amico, poi mi faceva piacere che lui venisse a questo raduno che è stato organizzato all'aviosuperficie di Terni e fargliela vedere perché non credo che abbia mai fatto visita a quella struttura. E poi mi piace che si suggelli un po' in volo questo nostro rapporto, che non è soltanto un rapporto politico, ma anche un rapporto umano, dove è meglio che in cielo, insomma. Mi è piaciuto sia per una questione proprio strettamente legata a quella che è una giornata di divertimento, come può essere quella organizzata appunto a Terni, ma anche perché ha un valore per me simbolico e quindi... Ecco, l'aviosuperficie di Terni, il sindaco di Terni spera che possa crescere? Il sindaco di Terni è convinto che crescerà perché le potenzialità ci sono, c'è tanta passione dietro, ci sono molte associazioni che ci lavorano, ci sono grandi capacità e veramente professionalità. Quindi ci sono tutti quanti i presupposti perché possa diventare una delle eccellenze. Non è particolarmente conosciuta magari qui in zona, ma mi dicono che a livello nazionale è tra le migliori, se non addirittura la migliore. Quando si parla di aviosuperficie si deve parlare sempre molto di sicurezza. Sì, questo è ovvio, me lo diceva anche il pilota molto esperto e molto bravo che mi ha accompagnato qua e ci sono delle regole che vanno seguite, io parlando anche con tutti quelli che sono gli appassionati che mi dicevano, noi siamo molto guasconi quando siamo a terra, poi nel momento in cui siamo in volo siamo ovviamente tra i, credo, i più attenti perché è ovvio che tutto quello che sta dietro nel mondo del volo presuppone non soltanto una capacità, una preparazione significativa dal punto di vista teorico e pratico, ma anche un'attenzione alla sicurezza che deve essere, non dico maniacale, ma insomma quasi. Lei è appassionato del volo? No, non sono appassionato, ho volato soltanto un paio di volte negli anni 90 con degli ultraleggeri perché invece ho un mio zio appassionato di volo e dopo 20 anni più o meno sono ritornato con un mezzo, non è un ultraleggero un mezzo, è un aeroplano un po' più strutturato, non so bene in termini tecnici come si chiama e è veramente una sensazione bellissima. La festa del volo, l'ultima battuta almeno per me, la festa del volo a Terni? La festa del volo a Terni è una bella iniziativa da pensare, ipotizzare e realizzare e credo che ci saranno gli spazi adeguati.